ciao ariete benvenuti alla vostra lettura di tarocchi per il mese di giugno qui comandala tarot la stella ciao ariete come state questo mese novità iniziamo con gli oracoli della saggezza per vedere e fare un bel check delle vostre energie vi ricordo che sono letture generali non personalizzate prendete i messaggi con cui risuonate gli altri lasciatevi all'universo che qualcun altro lo prenderà e se non risuonate proprio andate a vedere la lettura del vostro ascendente energie molto simili sono uscite le scarte simili anche in altre letture e sono tante le carte ariete 45 il vostro primo consiglio è time to go tempo di andare tempo di passare all'azione vedete si lascia delle stelle dietro e si dirige verso questa porta che si intravede all'orizzonte ancora c'è un po di nebbia c'è ancora un po bisogno di fare chiarezza ma vi incita all'azione ad andare a non titubare a muovervi forse anche tempo per alcuni di voi di abbandonare una situazione per dirigersi per dirigersi verso una che promette e che vi farà evoluzionare ok decisamente meglio per voi perché la seconda carta uscita è peace questo nuovo sentiero questa nuova porta che vi aspetta all'orizzonte vi porterà pace e la felicità sapete cos'è è proprio la pace quella serenità interiore non è la felicità esplosiva quella dura poco quella effimera la serenità è quella invece che possiamo trovare nella vita quotidiana di ogni giorno state covando un nuovo progetto c'è qualcosa di nuovo quest'uovo deve schiudersi e voi sarete il pulcino che esce fuori sì guardate c'è un volto protetto dalle stelle è una colomba che porta pace quindi è come se aveste bisogno proprio di uscire da una situazione precedente e dirigervi anche se non è del tutto chiara questa situazione del futuro verso questa nuova porta che vi porta pace porta 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 pace poi il 5 2 più 3 fa anche 5 che è il simbolo del papa di unione un nuovo cammino da abbracciare che vi porta anche a una nuova comunità per alcuni di voi parla proprio anche di un trasferimento o di un viaggio di entrare in un nuovo ambiente sociale dove verrete apprezzati dove vi sentirete a vostro agio dove vi sentirete a casa community potrebbe parlarne appunto il nuovo lavoro un nuovo posto un'associazione che volontariato una cooperazione collaborazione con nuove persone magari anche con persone che ci sono già ma cioè che avete già che conoscete già nella vostra vita ma che vi porterà pace forse prima non l'avevate considerata questa opzione e vediamo chi sono i vostri alleati divino maschile e femminile di questo mese ariete vostre guide spirituali per giugno lady venus e vediamo il divino maschile ariete lady venere wow vi dice download and understanding vuol dire che sarete molto ricettivi dal vostro chakra corona che state scaricando come da matrix dei nuovi dati delle informazioni che vi porteranno una nuova consapevolezza un gradino in più sulla coscienza vi dice la verità vi sarà rivelata delle profonde intuizioni stanno arrivando dal cielo e dalla corrente astrale wow quindi siate ricettivi a qui delle antenne e san germen che è qui per ricordarvi che state rilasciando un karma del passato ecco perché è tempo di andare un karma si chiude un nuovo ciclo si apre ariete terzo occhio attivato vi dice move beyond drama basta con il dramma basta con i drammi con le situazioni drammatiche della vostra vita create il vostro proprio sentiero di nuovo e anche l'uovo è dice make room for good energy di fare spazio per la buona energia si guardate un po il vostro cuore sarà una pietra preziosa questo mese fare spazio per questa nuova energia preziosa che deve entrare ariete facciamoci un bel giro con i tarocchi arcani maggiori minori sul vostro passato presente futuro sul vostro passato presente futuro immediato da dove venite come state verso che energia dirigete perché il cinque di spade come carte wow nove di coppe e stella e sotto il mazzo il fante di spade messaggi in arrivo ariete o alcuni di voi sono un po solo sono come sull'energia della difensiva si potrebbe essere che questo messaggio è già arrivato e voi ancora state rimuginando se rispondere o no o rilanciare pum la palla a chi l'ha spedito o sono anche pensieri nuove idee nuove lampadine che si accendono siete come allerta con le antenne si belle ricettive esattamente però in generale mi parla più di energia di stare sulla difensiva si potrebbe essere da qualcuno di cui non vi fidate o da delusioni del passato o da ritorni di ex per alcuni di voi vediamo di cosa ci parlano le nostre carte allora la prima sotto questo time to go giustizia appunto parla proprio di karma inequivocabilmente si dovete essere giusti con voi stessi ariete si io credo che siccome la carta che segue e sono già due arcani maggiori e il matto siete pronti per un nuovo inizio siete pronti per tagliare le corde con il passato per situazioni che vi hanno creato fastidio noia varie ingiustizie persone che non vi valorizzavano se parliamo di un ambiente di lavoro alcuni di voi magari stanno anche vivendo delle cause legali per questa ragione e sì è come è necessario fare giustizia di darvi ciò che vi meritate a chi vi merita su questo piatto della bilancia ricordatevi che chi ha più peso siete voi il vostro benessere e la vostra stabilità psicofisica ed emotiva ariete il matto zero pronti per un nuovo inizio state rilasciando l'energia del passato e vi dirigete verso quest'uovo che si deve schiudere che vi porterà entusiasmo pace serenità e leggerezza sì dopo l'ingiustizia è come se guardate è pronto guardate potrebbe guardare il mare un deserto nuovi orizzonti da questa scogliera abbiamo di energia un po' controverse nella verso l'energia su cui vi allora una parte di voi vorrebbe questa leggerezza spenserantezza del matto ma ha il 5 di spade viene da una sconfitta o da una vittoria che in realtà non ha giovato a nessuno né a chi ha perso né a chi ha vinto perché o si è giocato in modo sleale o comunque che ci sono state anche se avete vinto è come sì ma a quale prezzo no? mi fa pensare avete presente le vendette che si fanno le famiglie dei mafiosi magari uno ha vinto sì ma hai perso un sacco di familiari durante questa battaglia è idem per l'altra famiglia per esempio è come sì vincere a tutti i costi ma a che prezzo vi chiede di domandarvi questo ma se la risposta fosse verso una causa legale un ambiente di lavoro o qualcosa a cui facevate ricorso avrà esito positivo perché è uscito sia il 9 di coppe che la stella arcano maggiore quindi sì risulterà a vostro favore il 9 di coppe ci parla di felicità di pienezza di realizzazione di desideri di successo sia sentimentale ma qua stiamo parlando del lavoro quindi sia lavorativo quindi se avevate questa causa legale o questa pratica pendente di cui aspettavate il risultato di cui avete fatto di tutto per vincerla o che hanno fatto di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote o farvi perdere la pazienza perché a volte è così con la burocrazia specialmente sappiate che comunque risulterete vincitori sarete le stelle pronti a brillare con ciò che avete ottenuto sì insomma i risultati il premio per le vostre fatiche c'è ci sarà vediamo come ci chiarificano le altre carte questa situazione e poi vediamo l'amore ariete allora perché è uscita la giustizia per la riete giugno il nove di spade perché è uscito il matto per la riete giugno la morte trasformazione perché è uscito il cinque di spade e questa situazione con stella e nove di coppe per la riete giugno ecco qua sette di danari e perché è uscito nove di coppe con stella ecco sicurata due di spade e fante di bastone no fante di oro sette di spade quale che spade ariete vediamo un po' sotto il mazzo cosa c'è dopo il fante di spade il quattro di coppe questa mi parla che avete completamente svuotato qualcuno ha drenato le vostre energie sì guardate sta galleggiando in una coppa piena gigantesca come il santo grale è come se la vita ti mette davanti un'opportunità ma tu non la vedi perché sei troppo occupato a guardare le tre coppe vuote invece quello che si è perso quello che si sono quello che si è svuotato fino ad adesso vediamo un po' al dettaglio queste energie allora abbiamo sotto la giustizia è uscito il nove di spade guardate la luna e il nove di spade rappresenta tormento ansia preoccupazione definitivamente sì qualcuno è stato ingiusto con voi probabilmente in questo ambiente vi hanno un po' messo in difficoltà e avete sofferto tanto una situazione forse che si protraeva anche da tanto tempo nove mesi per alcuni voi nove anni o chissà fatemi sapere nei commenti vedete da questo nero è come se adesso avessi bisogno di riposare tra le nuvole ritrovare la luce sì che c'è in voi sotto lo zero del matto la morte vuol dire trasformazione rinascita che avete davvero bisogno di rinascere dalle vostre ceneri e di trovare di nuovo questo equilibrio questa forza personale interiore cambiamenti in arrivo comunque sotto questo vittoria o sconfitta o cinque di spade è uscito il sette di oro che vuol dire che avete lavorato davvero sodo per questo risultato che siano stati sleali con voi avete lavorato e state seminando guardate venite dall'oscurità da questo cerchio e avete seminato come una strada di rose che diventano sempre più grandi e sempre più belle complimenti avete fatto un grande grandissimo lavoro sì dal passato al momento in cui siete adesso tempo di sbocciare tempo di raccogliere infatti i semi frutti del vostro lavoro sotto questo nove di coppe avevamo proprio un due di spade che parla appunto di un'energia controversa che sì da un lato questa situazione siete felici di aver raggiunto il vostro obiettivo ma dall'altro avete un sacco di pensieri negativi due di spade sono proprio o qualcuno che deve prendere una decisione non sa che pesci prendere come se fosse vedete ha un incrocio il due è la carta delle scelte quindi scegliete di essere felici e di godervi il momento o di continuare a remuginare sulle energie del passato sul latte versato su ciò che è già accaduto e di cui non si può più fare niente e sotto sotto la stella abbiamo il sette di spade quindi si vi esorta a brillare e di essere furbi di farvi furbi il sette di spade e di chi mi ricorda un po' anche l'energia del ninja il ninja non è come il samurai che vi sfida legalmente a duello il ninja va per vincere e vince anche tagliando gole alle spalle attaccando di sorpresa diciamo che vi consiglia di farvi furbi se volete brillare in questa situazione di essere scaltri come delle volpi e di pensare al vostro benessere vedete c'è luce e c'è anche ombra lo specchio riflette può riflettere anche una situazione in cui non è tutto oro ciò che luccica dovete prendere in considerazione anche le bandiere rosse o i campanelli di allarme sì di questo vi parla facciamo un giro sull'energia dell'amore per l'ariete giugno che messaggi uh asso di oro wow che messaggi per l'ariete giugno wow regina di oro di nuovo oro eh per l'ariete giugno sei di oro quanto oro incredibile che messaggi per l'ariete giugno quante di oro e asso di bastoni sotto il mazzo abbiamo wow l'energia dell'imperatore meraviglioso sì potrebbe essere un capricorno potrebbe essere ariete leone sagittario oppure anche toro e vergine wow potrebbe essere l'incontro con questa energia dell'imperatore una persona di fuoco una persona molto risoluta ma che sa dominare perfettamente l'energia materiale ariete e vediamo il dettaglio avete due assi fantastico ariete abbiamo tanta energia di terra perché i pentacoli sono appunto toro vergine capricorno a me parla di allora un asso di oro questa è un'opportunità dopo per chi di voi si è separato o ha passato a lungo tempo da solo sentendosi ferito arriva questa offerta che parla di giustizia quindi un amore giusto leale con un giusto equilibrio fra dare e ricevere parla anche di azione e quindi opportunità qualcuno viene a farvi un'offerta invitarvi potrebbe parlarci appunto di questa regina di oro sono tutte quasi oro esatto che vi porta una grandissima leggerezza insieme all'energia del matto e della trasformazione questa è una persona davvero nutritiva che parla di abbondanza una persona generosa può anche essere al maschile ovviamente la regina è anche un re di pentacoli in questo caso e vi parla una persona che si sente ricca e sa condividere con gli altri la sua abbondanza è meraviglioso e come vi dicevo appunto è sempre energia di toro vergine capricorno e di nuovo siccome era uscito allora sì sei di pentacoli è molto simile all'energia della giustizia vedete giusto equilibrio tra il dare e ricevere e creano uno un vortice di otto quindi giustizia ed equilibrio sì ed era uscito anche qua community l'otto quindi mi fa pensare che questo amore è all'interno di un ambiente che già frequentate o una cerchia di conoscenze se di amore nuovo parliamo se poi abbiamo un fante di oro quindi per alcuni di voi questo corteggiatore se prima avevamo il fante di spade che può essere un segno d'aria tipo appunto acquario gemelli e bilancia qui abbiamo anche l'offerta di sempre toro vergine capricorno ed è quella di un paggio che parla comunque di equilibrio va lento però viene con un'offerta solida quindi da qui tutto può nascere possono nascere nuovi universi vi esorta di esplorare questa leggerezza anche questa è un po' l'energia del mattarello vedete come dell'equilibrista del cioccoliere che vi porterà leggerezza che dopo il dolore del passato dei problemi che avete affrontato vi viene di perla secondo me però dice che dovrete prendere una decisione quindi se alcuni di voi si stanno pensando se accettare se sì o no e poi abbiamo sotto questo sette di spade sotto questa stella abbiamo un asso di bastone qua mi parla di tanto passione potreste essere voi la vostra energia quindi ariete leone o sagittario o chi ha l'ascendente in questo segno o essere voi stessi che questa persona conquistata o questa nuova situazione riaccende il vostro fuoco interno vi riaccende la passione l'entusiasmo la gioia di vivere la voglia di fare cose e credo che mi parli anche comunque di stabilità andate incontro una nuova stabilità la stessa di cui parla l'imperatore che sotto di nuovo aveva la giustizia è rapporti equilibrati rapporti giusti niente più sofferenza niente più inganni certo i problemi poi nascono in qualsiasi relazione all'inizio dopo la fase di innamoramento di fette di prosciutto davanti agli occhi di oh sei meravigliosa sei meravigliosa sei stupenda dopo che le persone iniziano a conoscere iniziano le attriti ma è normale le incomprensioni ma perché ci si deve conoscere ci si deve capire l'altra persona è un altro mondo e anche per chi già sta in una relazione anche per chi già sta in coppia sono sempre equilibri che vanno riassettati costantemente perché mica siamo fissi cambiamo noi cambiamo ogni giorno cambiamo le nostre idee potreste dirmi che siete le stesse persone di cinque anni fa ma nemmeno per sogno sono cambiate già tutte le cellule del vostro corpo anche a livello fisico i capelli le unghie figuriamoci il resto quindi siate aperti a giocare con questi nuovi equilibri ariete e vediamo cosa ci dicono sia per l'amore che su come risuonano col resto della lettura le nostre magiche fatine che messaggiano per voi ariete mese di giugno che messaggi eccoci qui che messaggi per ariete giugno ecco qua si è girato l'asso e questa va qui che messaggi per ariete giugno uh volata dieci di autunno perfetto allora guarda un po' re di primavera questo è un re di bastoni allora ariete leone sagittario che è una persona innovativa ispiratore saggio istrionico potrebbe essere infatti questo matto che porta questa allegria nella vostra vita il messaggio per voi ariete è un guadagno inaspettato mostra le tue doti da leader wow un sostenitore inatteso per la tua causa un sostenitore inatteso per la tua causa quindi potrebbe essere l'imperatore o quest'asso di oro che era uscito prima meraviglioso poi ti è uscita l'energia numero 7 del carro guardate come vola in avanti vi dice raggiungi il successo grazie alla tua dedizione alla disciplina è il momento di festeggiare i risultati sei al centro dell'attenzione il carro è il carro del vincitore di chi trionfa ariete wow sotto questa bella poi regina di oro quindi trionfo sia lavorativo che sentimentale poi ci è uscito questo 4 di spade per chi aveva vissuto questa situazione di battaglie di ingiustizie il 4 di spade parla di riposo vi dice metti da parte le preoccupazioni ci penserai più tardi la meditazione porta buone soluzioni hai bisogno di dormire di più o di una vacanza eh già si avete già seminato bene tanto bene in passato ariete e poi vi è uscito un asso di primavera che è la stessa carta asso di bastoni secondo me qua c'è un'anima gemella sì allora il messaggio di questo asso di primavera per voi è è il momento di agire non aver paura e insegui con gioia i tuoi sogni più cari meravigliose possibilità di carriera wow poi è uscito il 10 d'autunno che è il 10 di denari mi sono usciti tantissimi i pentacoli tantissimi denari ariete questo è l'ottimo auspicio il massimo grado del suo seme dice adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza finanziaria ai tuoi figli ai tuoi cari a te stesso investimenti oculati o piani per la pensione rispetta le tradizioni di famiglia e vediamo adesso che messaggio un oracolo delle porte che porta si apre per la riete in questo mese di giugno vediamo un po' che bella con la bougainville questa porta si chiama l'odissea quindi sì sei pronto per il tuo viaggio ariete l'odissea dice taking the beauty of country lands and botany explore the wonder like a gypsy traveler odissee ti dice di andare in un posto dove c'è tanta bellezza dove le terre sono piene di natura di ambienti naturali e di esplorare queste meraviglie come se fossi un viaggiatore un gitano uno zingaro una persona curiosa o ulisse durante la sua prima odissea ariete prima di vedere l'ultimo oracolo vediamo prima i messaggi del tuo divino femminile divino maschile e se vi sta piacendo la lettura risuonate regalatemi un like iscrivetevi al canale e commentate perché sono curiosa di sapere come questi messaggi risuonano nelle vostre vite e iniziamo dal vostro divino femminile di questo mese Lady Venere che è l'anima gemella di Sanat Kumara e risiede nella corrente astrale che circonda il pianeta Venere si sa che allora gli esseri di luce di Venere chiamati venusiani sono stanno arrivando come lavoratori della luce come light workers sulla terra per aiutare con le connessioni per aiutare a capire ad aumentare il livello di coscienza e a aumentare la capacità di amore incondizionato Lady Venere ti dice se senti dei fischi nelle orecchie se vedi degli scintillì di luce o hai il senso di non essere da solo anche durante il sogno sappi che degli esseri astrali ti stanno visitando e ti stanno mandando questi messaggi questi download dal cielo se puoi trova del tempo per stare in meditazione e contemplazione anche per chiedere all'universo cosa hai bisogno di sapere davvero in questo momento questa carta rappresenta tutta l'informazione e i messaggi che verranno recepiti dalla tua mente o dal chakra della corona sappi che l'universo ti vede come capace di ricevere questa informazione e che sarai anche capace di saperla trasmettere agli altri wow alcuni di voi sono light workers sarete sono proprio lavoratori della luce avete un contributo da dare all'umanità certo come tutti però in questo più in ambito spirituale e vediamo il messaggio di Saint Germain il karma è la legge spirituale di causa e effetto sperimentiamo diversi livelli di karma alcuni li ereditiamo dalla nostra famiglia o insomma dalle nostre radici o dalle persone che cerchiamo di aiutare a venire fuori da problemi che continuano a crearsi e rigenerarsi Saint Germain è qui ora per ripulire la tua energia in modo che tu possa non più avere il peso sulle spalle questo peso del mondo sulle spalle che tu non sia sovraccarico di responsabilità anche non tue diciamo o dei tuoi cari e insomma per alleggerirti il peso sii cosciente e consapevole di vecchi comportamenti che devi abbandonare nella tua vita per creare spazio per qualcosa di più amorevole per qualcosa che abbia più che fare con il tuo amor proprio visualizzati circondato da questo mantello viola e rilascia tutto il karma tutte le esperienze del passato che ormai hai già imparato e che non ti servono più wow Ariete proprio una pulizia e nuova energia che stai ricevendo dal cosmo vediamo gli ultimi messaggi con gli oracoli per la riete del mese di giugno è già uscita wow una casa nel cielo home in the sky il numero 41 parla di desiderio di avventura di cambiare aria ma anche di sentirsi contemporaneamente al sicuro qui nel cielo vediamo galleggiare un interno vicinato una comunità wow questa di cui parlava all'inizio la comunità che viene trasportata da dei palloncini gli uccellini vedete scabuzzano da fuori le finestre in questa carta ci sono tutti gli elementi del viaggio simbolizzati dal cielo dagli uccelli e dai palloncini ma ci sono anche le case che suggeriscono appunto il sentirsi a casa a sentirsi protetti nel nido la sicurezza e la stabilità quella di cui ci parlava anche l'imperatore e questi uccelli hanno il meglio di entrambi i mondi possono viaggiare a lunga distanza senza perdere la propria casa sono liberi di cercare nuove esperienze senza troppe preoccupazioni la casa è davvero dove si trova il cuore questo è ciò che ti vuole ricordare che magia Ariete wow spero che tu abbia risonato con tutti questi messaggi grazie per essere stati con me anche oggi da Mandala Tarot e la Stella per oggi è tutto carissime Ariete vi mando un bacione e noi ci vediamo presto con le letture bonus mensili e tarocchi dell'amore ciao Ariete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti